quindi hai una scarsa autostima di te e quindi devi calpestare chi ti sta attorno non devono avere ragione solo a me date il palcoscenico solo a me chi non vuole altri che parlano vuol dire che ha poca autostima quindi non sono dei video attacchi miei ma i video che ti fanno ritornare per terra perché ora vedi c'è stato un mio diciamo non dico iscritto anche se forse lo sarà uno che spesso nei miei video commentava daniele bentivè pom 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 punto 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 che viene a scrivere sotto il tuo canale ma sto leo channel ma è parla sempre di te l'invidia lo sta divorando no non è l'invidia io nei miei video perché vedi tu sei juventino daniele bentivè pom 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 siccome ho detto delle cose vere sulle a juve tu da juventino non l'accetti allora devi andare subito a pararti da donato io ho detto cose contro la juve ho detto anche cose contro donato sempre nel giusto sempre nel giusto quindi non è assolutamente invidia io le cose le dico quando si tratta di tagliare carne e ossa e di dire le cose giuste quindi ti ho elencato che persino nel video che hai fatto il video che carichi hai detto che il napoli tra marzo e aprile crollasse invece oppure dicevi pure può darsi che fai pure peggio di prima invece quest'anno ha fatto un grande campionato e con dei torti arbitrali gli stanno togliendo un sogno per questo tu stai difendendo la juve non è perché sei obiettivo perché tu lo sai che ci sono stati dei torti arbitrali poi ti sta pure bene perché l'india non andrà in champions così potrai avere ragione sui cardi capito? falso interista falso obiettivo hai detto il napoli invece sta dando il filo a torci e poi ancora non ha perso il campionato hai detto attenzione al milan quindi vedi che invece io l'ho detto le cose giuste se io ho sbagliato solo Roma sto sbagliando il napoli ma moralmente sto avendo ragione sto sbagliando il real ma moralmente sto avendo ragione perché ricordatevi che un competente potrà anche sbagliare perché poi nel campo succedono delle altre cose ma le valutazioni dietro io ho avuto ragione sul napoli e sul real perché le circostanze come sono andate a finire sono frutto della fortuna e tu puoi essere come se ti ho sempre detto puoi stare con la fortuna mi puoi battere ma la competenza e il succo dietro non mi potrai mai battere quindi ti ho dimostrato ti ho fulminato con i tuoi stessi video con i miei video che ci sono ti ho detto pure Inter sarà quarto o quinto posto ho detto ah dimenticavo pure ho detto da inizio anno la Lazio andrà in champions e la Lazio è una delle squadre che ha subito più torti arbitrali in questa stagione e sta lì sopra quindi ti ho fulminato per quanto riguarda i pronostici non hai azzeccato nulla nulla per questo ti dicevo sempre Donato sfidiamoci nella competenza perché tu dici di essere il più competente quindi povero diavolo ciao